location diversa per questo video perchè è un video che mi è stato richiesto da dna75end ed è un video che non ha nulla a che fare con il make up ma mi sembrava una cosa carina e soprattutto volevo taggare tutte voi in modo tale che chiunque di voi avesse voglia di fare un video di risposta per il video che sto per fare si senta libera di farlo dna75end che presumo sia un ragazzo e ti ringrazio e ti saluto per la richiesta che mi hai fatto un pochino in ritardo io sto rispondendo perchè lui mi ha scritto il 23 febbraio ma non ho avuto tempo giuro e anzi già che ci sono a profitto del fatto scusate vi sto facendo un po' ballare di fare questo video per scusarmi se non ho fatto tutorial nell'ultima settimana ma uno ho avuto veramente poco poco tempo due ho avuto un problemino a questo occhio qua ma penso sia dovuto a un colpo d'aria semplicemente perchè mi si era gonfiata la palpebra mi faceva parecchio male quindi stare troppo a menargliela non mi sembrava il caso infatti come potete vedere ho pochissimo trucco sugli occhi giusto un briciolo di ombretto un po' di mascara comunque visto che non parliamo di make up vi spiego subito allora dna75end mi ha richiesto di rispondere a una serie di domande sull'autodifesa lui mi ha chiesto io spero che sia un lui poi magari mi sto sbagliando nel senso che io gli sto parlando al maschile poi magari mi sbaglio comunque mi ha chiesto di rispondere tramite messaggio a queste domande sull'autodifesa perchè ne aveva bisogno per se non ho capito male ora io la mia memoria vacilla comunque presumo per per lo studio avesse bisogno di questa serie di ragazze che gli rispondessero a a tali domande io ho pensato di fare tutto tramite video in modo tale che posso rispondere e nel frattempo allargare la la cerchia di risposte se voi avete voglia di fare un video o di rispondere appunto tramite tramite commenti o scrivere direttamente a lui lo trovate appunto come nick su youtube come dna75 and scritto and comunque andiamo avanti inizio subito perchè sono se non sbaglio 14 le domande allora numero 1 hai mai partecipato a un corso di autodifesa? no non ho mai partecipato a un corso di autodifesa anche se sinceramente mi ha sempre un pochettino incuriosito il fatto di poter partecipare prima o poi a una cosa del genere ma no non l'ho mai fatto numero 2 chi ti ha insegnato come e dove colpire qualcuno che ti molesta sinceramente nessuno mi ha mai insegnato come farlo diciamo che nel momento in cui mi si presentasse una situazione del genere andrei a colpire punti delicati in generale di un uomo e comunque magari prenderei spunto da film che ho visto cioè alla fine mi devo basare su quel poco che so numero 3 saresti in grado di mettere a terra un uomo più alto o più pesante di te? no non credo numero 4 verso che punto miraresti il primo colpo se sei costretta a difenderti occhi, naso, stomaco eccetera lo dico in maniera poco volgare andrei nei punti bassi ovvero andrei a colpire i genitali possibilmente un bel calcione e magari cerco di mettere KO il mio avversario in questo modo numero 5 perché colpiresti l'aggressore in quel punto? proprio perché è il punto penso più delicato per ogni uomo numero 6 finteresti altri colpi per distrarre l'aggressore o colpiresti subito in quel punto? credo che presa dal panico potrei colpire subito lì numero 7 quali sono a tuo parere le due tecniche più efficaci per mettere KO a un uomo? ripeto non avendo mai fatto nessun tipo di corso non ne ho la più pallida idea la mia idea appunto da ignorante in materia è che colpire appunto i genitali possa essere una buona tecnica per tenere un attimino l'avversario sotto controllo e poi credo che cercherai di cavargli gli occhi o qualcosa del genere poi numero 8 se ti dovesti difendere utilizzeresti le stesse tecniche contro un uomo e contro una donna? no per la donna punterai dritto ai capelli, occhi cercherai di farle male punto numero 9 come ti difenderesti istintivamente se un aggressore che è di fronte a te ti cingesse le mani intorno al collo? credo che cercherai di dargli una ginocchiata nello stomaco ma per pura idea mia poi magari è sbagliata numero 10 e se l'aggressore ti afferrasse i capelli da dietro? innanzitutto smito che capelli faccio un mazzo tanto però se mi afferrasse i capelli da dietro penso proverai a tirargli una gomitata non lo so sinceramente davvero sono domande difficili secondo me per qualcuno che non ha mai avuto a che fare con le arti marziali con l'autodifesa o comunque con gli sport che hanno a che fare con il combattimento poi andiamo avanti io ogni tanto mi perdo non so dove sono arrivata numero 11 e se l'aggressore ti cingesse le braccia intorno alla vita bloccando le tue braccia? sono cazzi amari direi però se mi cingesse le braccia intorno alla vita bloccando le tue braccia testata in bocca sul naso qualcosa del genere cercherai di dargli una capocciata poi numero 12 quale tecniche pensi che siano efficaci se un aggressore ti mette a terra ed è sopra di te? se mi mette a terra probabilmente mi blocca anche le braccia lì non saprei proprio sinceramente proverai a utilizzare le gambe ma non so come numero 13 se ti difenderesti come ti difenderesti scusate da un aggressore se un aggressore stringe il suo braccio intorno al tuo collo portando la tua testa all'altezza del suo stomaco oddio aspettate allora il suo braccio intorno al collo portando la tua testa ok piegandoti eh belinca macello sto cacchio di aggressore le sa tutte è un macello proverai ad afferrare qualcosa con le mani proverai a acchiappargli i genitali scusate se vado sempre a ribeccare lì ma non saprei veramente come altro difendermi numero 14 come ti difenderesti se un aggressore mira a farti male puntando al tuo punto debole colpendoti e stringendosi il seno con forza sta fresco perché io ce le ho piccole e scusate il gesto dell'ombrello ma non è un mio punto debole il seno anche perché penso di essere una delle poche donne al mondo che anche durante il ciclo non ha il minimo dolore al seno perché proprio zero no non è il mio punto debole non mi penso mi farebbe più male provando a schiacciare a stringermi qualcos'altro ma il seno proprio non è un mio punto debole finito ok a questo punto direi che il video è tutto qua spero che DNA75and sia soddisfatto delle mie risposte poco poco validi cioè nel senso poco come dire un po' da ignorante in materia appunto perché non ho proprio la più pallida idea di come fare a difendermi in caso di tutto questo tipo di aggressioni poi se magari mi da una mano anche parla l'italiano mi fa un favore l'aggressore e niente tutto qua spero che il video vi sia piaciuto spero che sia utile a lui mi rendo conto che non ha nulla a che fare con il mio canale ma mi sembrava carino rispondere a una richiesta di una persona che si è sbattuta a mandarmi una serie di domande e niente quindi spero che ne abbiate davvero voglia di fare dei video di risposta perché penso gli siano molto più utili forse più pareri rispetto ad un unico mio parere modestissimo e niente vi mando un bacio grande e al prossimo video ciao ragazze